Il rinnovo potrebbe estendersi fino al 2029, durante questo Summit, si è rafforzata l'intenzione di proseguire insieme, portando a un possibile prolungamento del contratto del centrocampista, originariamente in scadenza il 30 giugno 2027, inoltre, altre fonti suggeriscono che il nuovo accordo potrebbe estendere il legame di Folaurun Show con il club partenopeo fino al 2029, questo rinnovo evidenzia la fiducia del Napoli nelle capacità del giocatore e il desiderio di mantenerlo come parte integrante della squadra per i prossimi anni. Caratteristiche tecniche.Michael Folaurun Show è un centrocampista versatile e dinamico, noto per le sue eccellenti qualità fisiche e tecniche. Può ricoprire vari ruoli a centrocampo. È capace di giocare sia come mediano davanti alla difesa, sia come centrocampista più avanzato, adattandosi alle diverse esigenze tattiche della squadra. Dotato di una notevole struttura fisica, Folaurun Show è molto efficace nei contrasti e nei duelli aerei, la sua presenza in mezzo al campo si fa sentire, rendendolo un baluardo difensivo. È abile nel recuperare palloni, grazie alla sua tenacia e alla sua capacità di leggere il gioco avversario. Questo lo rende fondamentale nella fase di interdizione.